Noi siamo stati l'unico gruppo come conservatori riformisti europei ad assenerci rispetto al testo di questa dichiarazione congiunta perché intravediamo due rischi. Il primo riguarda la partecipazione democratica, cioè che la partecipazione che pure è richiamata a più riprese in questa dichiarazione sia sostanzialmente finta, cioè che si organizzino dei grandi forum di discussione tra persone che vengono selezionate, non si sa bene in che modo, rappresentando chi né da chi vengano selezionate. E il secondo rischio è direttamente connesso al primo, cioè che si costruisca questa finta democrazia per indirizzare un risultato che è già scritto, risultato che sarebbe una maggiore cessione di sovranità verso sempre maggiore Europa.